Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video vi farò vedere i due outfit che ho scelto di indossare per l'evento Generation Beauty di cui vi lascio il vlog e l'all alla fine del video E iniziamo! Ed ecco qui l'outfit del primo giorno Casual e femminile Ho su questo top aderente con stampa tribale bianca e nera E l'ho abbinato con questa gonna a vita alta blu elettrico A cerchio Un cinturino nero E ai piedi ho le mie adorate Creepers Che mi rendono alta ma allo stesso tempo sono comodissime Cosa da tenere in considerazione quando si va alle convention Perché alla fine si sta in piedi e si cammina tutto il giorno Il secondo giorno invece ho optato per un look più romantico Ho su questo vestitino floreale con rose rosa e gialle E sfondo nero Che ho abbinato con questa collana dorata con l'occhio Questa corona di fiori E le Creepers di nuovo Perché avevano passato il test di comodità il giorno prima Ed ora tocca a voi Nei commenti fatemi sapere quale outfit vi è piaciuto di più Il numero 1 O il numero 2 E... Spero che questo video vi sia piaciuto E non dimenticatevi di iscrivervi al canale Mettere mi piace, commentare Condividere il video con tutti i vostri amici E noi ci vediamo alla prossima Ciao! Ciao!